Se volessimo partire da un'analogia che a Habermas piacerebbe senz'altro, Habermas è occupato tanto di ragion pura, e quindi di studio della oggettività e della verità in campo scientifico, della ragion pratica e quindi dell'etica e della prassi intesa anche in un senso politico-istituzionale, e, diciamo così, della critica del giudizio, intesa come giudizio storico soprattutto, e filosofia della storia. E' sostanzialmente impossibile introdurre un aspetto senza far riferimento a tutti gli altri. In questo senso è un autore classicamente sistematico, perché non può esserci una presentazione dell'Habermas, filosofo della storia, senza un, non dico tanto un approfondimento, ma un riferimento sostanziale alla sua teoria della società, alla sua teoria etica, anche alla sua teoria della verità e così via. Ora, in modo, diciamo, ho pensato che il miglior modo per farlo, diciamo così, per presentare Habermas per quel che mi è stato chiesto di fare, quindi presentare la sua modalità di critica, e in questo, diciamo, mi collego anche alla, non soltanto al libro di Roberto, ma alla modalità con cui questo corso poi è scandito, e cioè cercare di analizzare le diverse modalità, appunto, di critica, lo farei attraverso, diciamo così, un lessico, se così vogliamo dire, cioè approfondendo attraverso questo filtro che mi sembra di successo, questo della critica trascendentale, o meglio, quasi trascendentale come leggete qui, e poi spiegherò perché, Lemmi, sfera pubblica, agire comunicativo, modernità, etica, e poi dirò qualcosa su storia e progresso. Ora, naturalmente l'antefatto è necessario, e dirò anche qualcosa a livello, diciamo, di cenni biografici, le slide sono puramente, diciamo, di supporto, e vi mostrerò dei testi che vi consiglio di leggere, è un autore molto prolifico, e quindi bisogna naturalmente partire da alcuni testi. Habermas, lo sottolineo, è un autore nato nel 1929, e già soltanto questa data può darvi l'indizio di quando poi parte la sua ricerca filosofica. In buona sostanza l'Habermas, già maturo filosoficamente, o meglio, l'Habermas che inizia la sua ricerca filosofica, è un Habermas che si trova, in buona sostanza, nel periodo post bellico. Durante la Seconda Guerra Mondiale Habermas è un adolescente, e quindi la sua carriera universitaria e di ricerca all'interno dell'alvio della teoria critica appartiene ad una fase che per la Germania è decisiva, cioè quella che potremmo definire, lui stesso la definisce, una rinascita democratica della Germania. Naturalmente stiamo parlando della Germania federale. E questo può aiutare anche a inquadrare la modalità con cui Habermas attraversa il problema della teoria critica in un'atmosfera storica completamente diversa da quella dei suoi maestri, che qui vedete raffigurati. Questa è una delle poche foto in cui si mostrano, vedete, Orkheimer Adorno e poi lì, diciamo, sullo sfondo un giovane Habermas e poi un Habermas che interloquisce con Adorno. Perché lo dico? Perché è essenziale capire come i problemi, diciamo così, che avevano interessato la prima generazione della scuola di Francoforte e sono molto diversi dai problemi che il giovane Habermas si trova ad affrontare. È proprio un'attitudine, potremmo dire, anche generazionale diversa. Non mi dilungo su questo, ma sapete benissimo come il cuore, o meglio, se prendiamo Dialettica dell'Illuminismo come il manifesto della prima generazione della scuola di Francoforte, il problema essenziale per i due francofortesi era l'analisi dei fenomeni di razionalizzazione e di teorizzazione della crisi europea all'interno di un contesto, diciamo così, dell'autoritarismo, un contesto, peraltro, biograficamente di esilio e che ha, nell'evento, diciamo così, di testimonianza di questo collasso della coscienza europea, Auschwitz come suo, diciamo, evento caratterizzante della, diciamo così, della produzione tanto di Orkheimer e di Adorno e della loro diagnosi sull'illuminismo, sulla modernità e sulla razionalità, sulla ragione. Habermas, quindi, vive una stagione nuova nella quale, tra l'altro, si rende conto come le conquiste, ad esempio, dello Stato di diritto sono conquiste che possono essere descritte come avanzamenti sul piano dell'emancipazione, cioè, diversamente dalle modalità con cui la prima generazione dei francofortesi si era espressa sul ruolo, ad esempio, pensate, dello Stato amministrativo, lo Stato di diritto costituzionale rappresentava già per il giovane Habermas un elemento di avanzamento, di progresso, di emancipazione. Ora, però, perché Habermas è un teorico critico e un'erede della scuola di Francoforte? Perché negli anni che vanno dal 1962 fino agli anni 80 con il periodo, diciamo, che culmina con la pubblicazione del 1981 di Teoria dell'agire comunicativo il primo Habermas, l'Habermas accademico cioè l'Habermas che si impegna in una ricerca interdisciplinare come in realtà voleva il programma della teoria critica è un Habermas interessato alle forme dell'agire e della razionalità cioè lui intende il cuore dello studio dei Francofortesi come orientato allo studio della ragione lui lo dice nella prima riga di Teoria dell'agire comunicativo è il tema è la seguente il tema fondamentale della filosofia è la ragione perché? perché la razionalità strumentale è analizzata criticamente in dialettica dell'illuminismo agli occhi del giovane Habermas effettivamente così diciamo in una semplice ermeneutica del testo ma anche in testi successivi pensate all'Orkheimer di diciamo della ragione oggettiva contro la ragione soggettiva e così via è una razionalità che copre tutto lo spettro dell'agire tutto lo spettro della razionalità la razionalità strumentale strategica diciamo di marca weberiana senza una possibilità di trovare in forme alternative di agire ambiti di possibilità di critica e di emancipazione l'Habermas ripeto tra gli anni 60 e gli anni i primi anni 80 è quindi un Habermas che si concentra sul studio delle forme dell'oggettività sulle forme della verità scientifica e della verità pratica potremmo dire così e delle forme dell'agire in chiaramente polemica con il positivismo Habermas peraltro piccola parentesi è un autore che ha sempre ingaggiato delle polemiche la prima polemica famosa è tra lui e Adorno in coppia contro Albert e Popper sul tema del positivismo stride cosiddetto ma poi pensate alle polemiche fino diciamo così a Papa Ratzinger quindi quelle sul secolarismo sulla secolarizzazione e che hanno attraversato altre polemiche come quelle con John Rawls o diciamo così altri autori come Foucault e così via il 1962 è un anno cruciale perché Habermas pubblica la sua Abilitationsstrift cioè la sua tesi di abilitazione alla alla carriera accademica al ruolo di professore universitario così funziona in Germania e lo fa con uno studio che a mio parere con tanta lettura diciamo di quello che è una produzione molto vasta e che copre come abbiamo detto molti campi rimane forse il suo libro migliore intanto per la sua diciamo godibilità ecco è un testo molto godibile sul piano della lettura ma anche è un testo che forse rappresenta in maniera plastica che cosa vuol dire fare teoria critica della società e non è appunto un testo di Adorno sulla modernità e sulle conquiste diciamo così dell'illuminismo e della borghesia potremmo dire no comunque autori Habermas stesso comunque interni ancora molto ad una logica marxista anche in questo volume diversamente ecco da questa interpretazione Habermas scoglie nella sfera pubblica borghese e in una certa produzione storico culturale dell'illuminismo un un fenomeno dialettico cioè che da un lato contiene elementi di emancipazione e di critica e dall'altro colpevole della sua diciamo dimensione particolare e interna ad un sistema specificamente il sistema capitalistico questa limitazione non permette di esprimere al meglio profondamente questi elementi interni al funzionamento della sfera pubblica il titolo italiano che sicuramente voi conoscerete perché appunto è uno dei testi più noti più utilizzati di Habermas anche nei media studies negli studi sulla comunicazione di sociologia della cultura e così via è un titolo in realtà che non coglie il diciamo così il progetto di Habermas in questo volume storia e critica delle opinioni pubbliche è un bel titolo ma il titolo originale in tedesco è structure bundle der offentlicate cioè trasformazione strutturale della sfera pubblica e qui la chiave di diciamo interpretativa sta proprio nel termine offentlicate che in realtà letteralmente vuol dire pubblicità often è diciamo l'analogo di open in inglese e sta appunto a indicare questa capacità di un qualcosa di totalmente innovativo nella storia umana cioè l'opinione pubblica in particolare Habermas si concentra sulla genesi della sfera pubblica borghese pensate ai coffee shop pensate alle sale di lettura dei giornali pensate al dibattito che attraverso i gazzettini le prime riviste che circolavano potentemente intorno agli anni della rivoluzione francese e questa genesi aveva però in sé qualcosa che è tipicamente un contrassegno della teoria critica cioè quello di vedere possiamo dire così poi magari cerchiamo di chiarirlo una trascendenza nell'immanenza cioè il messaggio che questa prima sfera pubblica mostrava di sé era un messaggio di possiamo dire una comunicazione libera libera dal dominio cioè in buona sostanza idealmente la sfera pubblica borghese era una sfera pubblica in cui tutti avevano accesso e l'unico criterio per cui era possibile effettivamente partecipare a questa situazione lui avrebbe detto discorsiva ideale questa situazione comunicativa ideale era l'impegno nei confronti della verità pensate a che cos'è l'illuminismo di Kant come manifesto di questo atteggiamento tanto diciamo di certo nella prima parte del manifesto si legge di Kant si legge dell'uscita dello stato di minorità ma ricorderete nella seconda parte che forse è quella più anche interessante Kant distingue tra ragione privata e ragione pubblica la ragione privata tiene alle professioni che ogni cittadino ha nella società e nello stato la ragione pubblica è questa sfera ulteriore di razionalità pubblica che non ha confini di carattere particolaristico di carattere utilitaristico potremmo dire o pragmatico l'unico confine l'unico perimetro è quello del avrebbe detto Habermas dell'argomento migliore ora naturalmente l'argomento migliore ma lo vedremo appunto più avanti è potremmo dire cantianamente un postulato poi vediamo in che termini Habermas lo 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 descrive però ecco perché Habermas è un autore che promuove già a partire dal 1962 una forma di critica trascendentale che però è quasi trascendentale laddove il quasi è decisivo perché lui nota come esistono delle forme trascendentali di validità interne ai contesti sociali che agiscono nelle prassi come già anticipava il professor Mordaci cioè nelle prassi che avvengono le forme di critica e di espressione di questo tentativo di diciamo così sfidare le norme sociali dal punto di vista di una validità che ad esempio illuministicamente si supponeva essere universale cioè aperta e comunicabile a tutti o giustificabile a tutti non mi dilungo ulteriormente perché questo è un libro che poi ha una sua dinamica molto interessante e dico solo questo che ne è di questa sfera pubblica cioè che ne è del messaggio che conteneva al suo interno ne è un suo ribaltamento e qui diciamo la tesi è profondamente adorniana e interna all'interpretazione dell'industria culturale che trovate in dialettica dell'illuminismo e cioè questa sfera pubblica è stata tradita non perché diciamo è successo un caso storico che l'abbia smentita no ma era in un certo senso necessario secondo abermas naturalmente più sofisticato di così che questo tipo di normatività interna alla prassi diciamo comunicativa della prima sfera pubblica in virtù degli sviluppi del capitalismo andasse a trapassare da sfera pubblica a merchandising da sfera pubblica a marketing da sfera pubblica a leadership e qui c'è possiamo dire un chiarimento di quello che già Dorner Keimer intendevano con lo scadimento delle forme della vita e delle convivenze europee tra gli anni venti e gli anni trenta per via delle trasformazioni del capitalismo e l'avvento dell'autoritarismo in cui tra l'altro Habermas e qui chiudo sull'analisi di trasformazione strutturale della sfera pubblica Habermas dice l'itlerismo è un fenomeno completamente interno a questa trasformazione della sfera pubblica perché l'autoritarismo nazista ha assunto su di sé potentemente le armi ad esempio della pubblicità e del marketing politico e quindi l'autoritarismo è figlio stesso diciamo così della modernità da questo punto di vista naturalmente una modernità che poi Habermas vorrà difendere su un piano su un piano che appunto vedremo ecco qui c'è il passaggio da una dimensione possiamo dire più teorico sociale o se vogliamo proprio di genealogia storica allo studio delle forme dell'agire cioè l'Habermas di storia e critica dell'opinione pubblica e di alcuni testi successivi un Habermas si concentra sulla storia in particolare di queste forme di agire concrete all'interno delle classi sociali delle sfere sociali concrete ma da buon allievo di Weber da questo punto di vista Habermas si interroga sulla modalità con cui questo discorso si può astrarre ad un livello idealtipico no cioè da un livello di studio delle forme fondamentali dell'agire umano un tassello chiave di questo studio è a mio parere un testo che molto spesso è dimenticato ed è del 1968 ed è conoscenza interesse in cui Habermas torna sul manifesto teoria critica teoria tradizionale e teoria critica del 37 di Orkheimer e di fatto ne prosegue l'ambizione teorica chiedendosi che statuto dovesse avere la teoria critica della società perché appunto l'ho già accennato e sicuramente lo è stato fatto anche nel diciamo nell'introduzione e nel corso e lo si farà ulteriormente al di là delle interpretazioni su cui magari in realtà forse le cose sono anche un po' più complesse di così è indubbio che ad Orkheimer erano arrivati in un punto in cui la loro critica si era fermata ad uno stallo diciamo così cioè dialettica dell'illuminismo ripeto se lo prendiamo come testo emblematico di questo genere di critica che non lo so poi magari vedrete appunto come una sorta di diciamo una critica metastrada tra una critica messianica una critica dialettica una critica genealogica diciamo dialettica dell'illuminismo contiene tutta questa serie di metodi ma sicuramente non come avrebbe appunto poi mostrato bene Abermas non chiarisce mai qual è il punto di vista della critica cioè la critica è una forma di di espressione della contraddizione della società capitalistica e della società moderna ma ad Orkheimer non si concentrano poi sul chiarire che tipo di attività critica c'è alla base di questa critica stessa cioè che cos'è che muove effettivamente la critica alle contraddizioni del capitalismo e dell'illuminismo è una critica che diciamo va a schiantarsi su di sé perché non fa emergere un surplus diciamo così un elemento che potremmo definire positivo è una critica in buona sostanza al di là ripeto delle interpretazioni su cui si possono avere anche su dialettica negativa che è un testo come sapete successivo dell'etica dell'illuminismo in cui in realtà Adorno cerca appunto di chiarire lo statuto metafisico ecco della sua teoria della dialettica è indubbio che Adorno adorno capovolgimento dialettico dell'illuminismo è questo ritorno non meglio specificato ad una forma di mimesis con la natura che poi verrà sviluppato soprattutto nelle sue forme estetiche no? Cioè l'unica poi l'unico ambito in cui è possibile riconciliarsi con con la natura e con un mondo non filtrato dalla ragione strumentale quello estetico che ha a che fare appunto con i sensi ma anche con la teoria appunto dell'arte e una teoria propriamente estetica su cui peraltro Adorno poi si concentrerà in tutti gli anni sessanta quindi Adorno se si va a vedere non è neanche poi più interessato a quello che ad esempio Abermas fa in quegli anni probabilmente secondo un aneddoto che sono riuscito a cogliere Adorno ha mai letto Conoscenza di Interesse ad esempio probabilmente o meglio non c'è mai stato un confronto diretto con quel genere di testo cheppure era il testo più diciamo Adorniano e Francofortese è anche interessante questo elemento di passaggio generazionale su cui insomma si può riflettere ecco quindi Conoscenza di Interesse diceva già che cosa che non c'è mai come già diceva Horkheimer un elemento di neutralità nelle forme della razionalità la razionalità è sempre interna delle relazioni di potere e di interesse l'interesse della ragione strumentale è quello dell'accumulazione della produzione di manufatti ad esempio qual è l'interesse dell'analisi critica l'interesse dell'analisi critica è un interesse specificamente all'emancipazione e qui Habermas si collega ancora ad esempio alla psicanalisi c'è uno studio di Freud qui cos'è la psicanalisi è il tentativo di rimuovere i blocchi che riprimono il soggetto no dal suo diciamo inconscio e quindi dalle sue dalle forme inconsce di repressione la teoria critica è una scienza a suo dire ricostruttiva che cerca di analizzare le forme di blocchi riflessivi e di blocchi diciamo sistemici che sono alla base delle forme di ingiustizia e di dominio delle società contemporanee cioè la teoria critica ha come obiettivo quello di esprimere il più possibile elementi di interazione e di comunicazione e qui vengo a agire comunicativo su cui c'è un grosso diciamo così un grosso malinteso perché Habermas non intende l'agire comunicativo come un agire linguistico soltanto anzi la premessa chiaramente storico-filosofica qual è? Habermas è un fautore della svolta linguistica senza dubbio ma qui bisogna fare un inciso ci sono tre svolte linguistiche in realtà nel novecento cioè la svolta linguistica in quanto tale cioè quella degli anni venti e degli anni trenta e che ha avuto diciamo con convergenze parallele in autori come da un lato nel circolo di Vienna da Schlich fino a Carnap e poi nella traduzione diciamo anglosassone di Russell e poi Wittgenstein quindi il Wittgenstein del Tractatus la sua variante diciamo di analisi del linguaggio come sapete e poi invece il Pandan continentale diciamo così in Cassirer Heidegger e Gadamer che avete visto con il professor Mordaci cioè l'ermeneutica nella quale in buona sostanza la tesi poi nella diciamo nella polemica che poi tuttora sussiste in realtà vedeva proprio nella sede del linguaggio la modalità con cui il novecento potesse dischiudere tutti gli elementi di risoluzione dei principali problemi filosofici tanto quelli teoretici quanto quelli pratici cosa avviene però all'interno della svolta linguistica soprattutto in ambito anglosassone e qui Habermas non è ingenuo cioè il primo in Germania a leggere gli autori anglosassoni che secondo me è un messaggio che deve essere utile cioè Habermas interessa questa distinzione tra analitici e continentali ha aperto le porte ad una lettura a 360 gradi della produzione filosofica mondiale e quindi disciplinare lui si interessa molto già negli anni nei fini anni 60 della svolta pragmatica del linguaggio cioè che come sapete ha in Austin soprattutto in John Austin un suo autore di riferimento Austin ricorderete distingue tra elemento locutivo elemento illocutivo elemento perlocutivo degli atti linguistici non a caso atti ricorderete che Austin supera l'elemento puramente enunciativo del linguaggio il linguaggio non è soltanto diciamo così una cattura astratta diciamo di stati di cose l'enunciato di Wittgenstein è una cattura proposizionale degli stati di cose presenti ma il secondo Wittgenstein già mette in discussione questo con la teoria dei giochi linguistici Austin formalizza questa cosa qui concentrandosi sulla modalità con cui questi enunciati in realtà sono sin dall'inizio atti cioè azioni sociali in particolare la forza illocutiva è quella che interessa Abermas come ricorderete la forza illocutiva è quella per cui un enunciato essendo un atto si rivolge a qualcun altro si rivolge sempre a un parlante e qui rientra la teoria sociale cioè se la forza illocutiva ha priorità rispetto a quella illocutiva che è puramente quella grammaticale sintattica e quella per illocutiva per cui gli enunciati fanno fare cose ad altri cioè generano effetti causali allora vuol dire che la comunicazione non è soltanto analisi del linguaggio o meglio scusate il linguaggio non discude soltanto una potenzialità di analisi logica ma di integrazione sociale e qui secondo me si può dire c'è una terza svolta che è appunto la svolta comunicativa che è stata presa su di sé da non solo Jürgen Habermas ma anche Carlotto Apple che è diciamo l'amico in polemica di Habermas e che notoriamente nella manualistica viene associato a lui per l'etica del discorso non mi dilungherò su questo ma diciamo così schematicamente se Apple è più kantiano diciamo così è più trascendentale Habermas è più quasi trascendentale se non vedremo insomma anche Gheliano per certi versi comunque sicuramente più francofortese questo è indubbio Apple era francoforte ma era al di fuori della diciamo della tradizione della scuola di francoforte era più un autore ermeneutico e che poi ha radicalizzato l'aspetto kantiano della sua teoria in ogni caso la svolta pragmatica è decisiva la svolta comunicativa è quella che compie questa intuizione e quindi Habermas si trova nella posizione poi di compiere questo studio in questa opera a due volumi teoria dell'agire comunicativo del 1981 in cui la teoria dell'agire è una teoria della società la comunicazione è interna non agli ambiti che Habermas definisce sistemici cioè in cui si riproduce il denaro e il potere ovvero potere coercitivo e economia capitalistica lì quelli sono ambiti che attengono alla razionalità strumentale che ha come interesse la riproducibilità di questa razionalità e la produzione di manufatti oppure la capacità di attori egocentrici di entrare in interazione competitiva con altri nel mercato c'è un'altra sponda diciamo così della razionalità su cui la teoria critica invece deve concentrarsi che è la razionalità comunicativa che non è volta al successo no come esattamente come un martello viene utilizzato per colpire un chiodo e quindi affiggere un quadro e quindi se questa azione viene compiuta a successo nella razionalità comunicativa nella quale si si attua un'interazione tra pretese di validità l'interesse è quello all'intesa quindi successo razionalità strumentale strategica intesa razionalità comunicativa tra l'altro Habermas poi è molto anche più sofisticato distingue all'interno dell'alveo dell'azione orientata all'intesa le azioni regolate da norme l'agire drammaturgico la conversazione ad esempio l'agire drammaturgico è quello per cui esistono dei ruoli sociali che hanno il loro significato nell'azione stessa ad esempio non so un poliziotto agisce secondo il suo agì secondo la sua la sua funzione sociale che è immediatamente volta alla comunicazione di un messaggio o di un appunto di un ruolo sociale quindi di una funzione la conversazione è l'elemento invece decisivo su cui poi Habermas si concentra soprattutto nell'ambito dell'etica la conversazione è quel luogo ideale ma reale nel quale si presuppone che l'altro avanzi delle pretese e poi vedremo quali ma sono state anche già accennate dico qualcosa su il concetto di modernità che ne viene fuori oh caspita come mai da remoto però vedevate vero neanche forse no no è la ferma ah vabbè è una fermiante fatto oh caspita allora provo a condividere tutto lo schermo così dovrebbe vedere va bene allora storia e critica dell'opinione pubblica a questa copertina qui storia dell'agire comunicativa questa qui e qui siamo arrivati alla modernità allora c'è un doppio aspetto su questo la modernità che Habermas vuole riscoprire e intanto quella modernità per la quale sulla base della sua teoria sociale essa è sempre un terreno di scontro tra due modalità di integrazione sociale diversa l'integrazione sistemica cioè quella mossa che ha come motore l'agire strumentale strategico e invece il mondo della vita l'Ebenswelt una ripresa pratialmente usserliana il mondo della vita è il mondo della riproduzione comunicativa della riproduzione culturale mossa dall'agire comunicativo nel quale tanto per intenderci noi ci scambiamo pretese ma che cosa vuol dire pretese scambiare scambiare interazione negli ambiti ad esempio su negli ambiti della validità o meno di una norma legale di una norma etica sul significato di un agire culturale sul significato di una forma di vita cioè tutto quell'aspetto di mondo appunto di vita che non ha che fare con la pura strumentalità che agisce per ottenere qualcosa in maniera diciamo mezzo fine ma qualcosa che facciamo con la pretesa che l'altro che con l'altro si abbia un'intesa un'intesa possibile ad esempio quale norme costituzionali far adottare alla Germania dopo la la seconda guerra mondiale oppure che tipo di norme adottare di fronte a all'eugenetica o alla bioetica quali norme possono regolare il mercato oppure quali forme culturali sono da superare o da mantenere qui Habermas vuole essere teorico-critico una misura in cui vuole spiegare quello che stava succedendo nel 68 cioè il 68 era una grande stata una grande rivoluzione si dice spesso di costumi in effetti è vero ma nella quale il mondo della vita la riproduzione sociale è come se appunto si stesse rivoltando contro alcuni imperativi sistemici e qui Habermas vuole chiarire quello che proprio ad Ornorkheimer non volevano chiarire fino in fondo allora su questa visione molto binaria della teoria della modernità e della teoria sociale io sono il primo a volerne discutere però questa è la teoria la modernità è un campo su cui Habermas si è molto spinto quindi dicevo la modernità è questo campo di battaglia tra queste due modalità di integrazione sociale c'è però anche una interpretazione interessante che viene data quando Habermas accoglie l'Adorno Price questo premio adorno nel 1981 quindi nell'80 e quasi verso la pubblicazione di teoria dell'agire comunicativa nel quale Habermas in contrapposizione con le tendenze postmoderne ripeto 1980 quindi proprio nel cuore del dibattito del primo dibattito sul postmodernismo Habermas difende la modernità come progetto incompiuto questa è la formula molto caratteristica della sua produzione in particolare Habermas difende la cosiddetta modernità culturale cioè il progetto illuministico secondo cui e qui la diagnosi è molto precisa essa ha come messaggio quella della autonomia delle sfere di vita in particolare l'autonomia delle scienze l'autonomia estetica l'autonomia delle arti e l'autonomia della morale cioè se c'è un progetto illuministico ha a che fare con l'autonomizzazione delle sfere e la razionalizzazione di queste forme di vita quando è che accadono le patologie della modernità accadono quando noi abbiamo la pretesa di colonizzare il mondo della vita attraverso le forze sistemiche faccio un esempio quando per riprendere quello che è stato detto prima ma d'altro canto Habermas stesso nel suo libro lo esponeva non con questa già chiarezza teoretica ma di fatto è così la sfera pubblica perché viene corrotta perché avvengono delle forme di intromissione di elementi estranei all'agire comunicativo che sono quelli precisamente dettati da ad esempio regole di strategia politica di strategia puramente di ad esempio elettoralistica oppure di pubblicità lui si concentra molto sull'elemento di intromissione della pubblicità nell'informazione lui sarebbe lo è di fatto un critico ad esempio dell'infotainment cioè questa collusione dell'elemento dell'intrattenimento e della pubblicità nelle forme dell'informazione nell'ambito informativi ma potremmo dire la stessa cosa nell'ambito istituzionale e politico no? attualizzando la questione potremmo dire non è mai possibile che l'algoritmo decida ad esempio delle regolamentazioni sull'algoritmo stesso vedete bene che stiamo parlando di due razionalità diverse da un lato c'è una razionalità regola diciamo regolativo comunicativa nella quale noi ci intendiamo su che cosa l'algoritmo debba fare o non fare e quindi l'intesa è questa cosa qui non è nulla di astratto e invece però molto spesso accade che altre razionalità vengono a intromettersi si potrebbe dire si potrebbe dire come Habermas nell'altro testo che è un testo formidabile discorso filosofico della modernità attacca proprio gli autori postmoderni accusandoli di svalutare invece questo elemento contraddittorio dialettico binario della modernità e invece concentrarsi in buona sostanza soltanto su un aspetto polemico che poi in fondo diciamo finisce per svalutare la stessa idea di critica c'è una citazione che volevo porre all'attenzione proprio dal discorso filosofico della modernità quando Habermas si concentra su Nietzsche e lo collega al capitolo sul mito di dialettica dell'illuminismo si concentra polemicamente sull'idea di Nietzsche secondo cui l'unica critica possibile è fatta alla luce dell'idea di potenza cioè l'unica forma di diciamo di nichilismo attivo quindi di forme alternative alle forme reattive sono quelle che semplicemente esprimono potenza quindi affermazione laddove invece no Habermas dice per contrapporsi in maniera critica alle forme reattive dobbiamo rivalutare l'elemento della validità non della potenza e lui dice se però tutti i predicati di validità sono svalutati e se negli apprezzamenti non si esprimono pretese di validità ma soltanto pretese di potere secondo quale criterio la critica deve ancora effettuare le proprie distinzioni cioè c'è una contraddizione performativa sulla base di cosa voi criticate le pretese di reattive di potere di oppressione se non assumete quindi qui c'è la trascendentalità concreta di Habermas se non assumete un elemento di pretesa di validità della vostra stessa critica essa la critica deve almeno poter discriminare tra un potere che merita di essere stimato e uno che merita di essere svalutato e questo è un elemento che secondo me persiste anche negli allievi di Habermas cioè il tentativo comunque di non tornare ad una semplice logica negativistica di potere ma agire attraverso lo studio delle pretese di validità vuoi come riconoscimento vuoi come forma di vita vuoi come giustificazione e qui c'è l'ambito precisamente etico del suo discorso o meglio l'etica del discorso intanto discorso che cos'è anche qui tanti malintesi il discorso discurs in teoria dell'agire comunicativo è un momento specifico dell'agire comunicativo nel quale i parlanti i soggetti sociali si trovano a non a non approvare a non sentirsi diciamo in comunanza in accordo sulle precisamente sulle pretese di validità cioè Abermastone è ingenuo non crede che ogni volta noi entriamo in discorsi in conversazioni razionali è chiaro che l'agire comunicativo è un agire che diciamo è interno alle prassi e quindi fa parte della modalità quotidiana di vita no gli elementi di crisi all'interno ad esempio il 68 i rivolgimenti sono sempre momenti specifici nei quali però si rimettono in discussione tutte le pretese di validità che agivano quotidianamente come fattori di integrazione ad esempio durante l'epoca del non so il referendum sul divorzio la pretesa di validità di una determinata forma di vita secondo cui determinate scelte in autonomia dalla parte della donna non potessero essere espresse fino in fondo vengono messe in discussione e lì si aprono degli elementi di crisi degli elementi di appunto discorsività che ripeto avvengono avvengono quando l'agire comunicativo quotidiano entra in contraddizione entra in crisi però se c'è un'etica questa etica deve mostrare in che termini secondo quale regole questo discorso questa conversazione che è una conversazione sempre pubblica deve darsi e qui c'è una una doppia spiegazione c'è la spiegazione legata a quella che Habermas chiama la pragmatica universale soprattutto condotta negli anni settanta e poi presente in teoria dell'agire comunicativo che già veniva accennata prima nell'introduzione la pragmatica universale è il pendante etico della sintattica universale di Chomsky se Chomsky proprio in quegli anni studiava le forme universali della sintassi presente in tutti i linguaggi ordinari Habermas ha la pretesa come studioso proprio di teoria critica della società in maniera interdisciplinare avanzando questa idea diciamo della cosiddetta scienza ricostruttiva la pretesa di individuare in tutti i linguaggi ordinari e quindi nell'agire comunicativo delle forme inaggirabili di pretese di validità e queste quali sono? qui c'è la collaborazione con Apple chiaramente sono quattro le classi di pretese di validità una pretesa di comprensibilità cioè io devo comprendere grammaticalmente quello che l'altro mi sta dicendo per essere discusso e criticato una pretesa di verità cioè quando sento qualcuno parlare e dirmi qualcosa in merito al mondo o ad una idea presuppongo che l'altro faccia riferimento ad uno stato di cose diciamo oggettivo uno stato di cose verichiero una pretesa di veridicità cioè presuppongo che l'altro voglia effettivamente mi stia effettivamente dicendo quello che pensa quindi in buona sostanza è una pretesa di sincerità e poi una pretesa di giustezza normativa insomma non so mai perché lui utilizza poi questi termini così astrusi ma correttezza in buona sostanza cioè una volta che nella conversazione tu hai torto opponiamo che all'interno della nostra argomentazione viene fuori che tu avevi torto io avevo torto qui siamo a un livello molto astratto però ripeto calatelo nella prassi diciamo sociale si presuppone che l'altro cambi posizione cioè riconosca di aver sbagliato e di riposizionare la sua pretesa quindi diciamo Aberman sarebbe molto contrario a quell'idea che secondo cui in talk show ognuno dice la sua senza fondamentalmente intendersi e utilizzare non l'agire comunicativo ma puramente un'agire strumentale mano a mano soprattutto negli anni 80 fino ai primi anni 90 Abermas ha radicalizzato l'aspetto kantiano di questa teoria morale che come vedete è ancora interna diciamo è una teoria della gira una teoria sociale e lo fa appunto con una riscoperta di kant che comunque rimane sempre sempre stato un autore fondamentale sin dalle studi sulla sulla sfera pubblica e Abermas cerca di individuare un principio kantiano dell'etica del discorso e lo recito e poi ne parliamo secondo cui ogni norma valida deve soddisfare la condizione che le conseguenze e gli effetti secondari derivanti da essa possano venire accettate da tutti gli interessati c'è un altro principio un po' più generale che è il principio del discorso secondo cui sono valide tutte quelle norme che possono incontrare l'accettazione e l'approvazione di tutti coloro che ne sono coinvolti che insomma va da sé è un modo di tradurre il principio diciamo la prima formulazione dell'imperativo categorico se ci pensate ma in che forma in una forma che lui definisce non monologica ma dialogica cioè secondo cui ma con Roberto tra l'altro ne abbiamo sempre parlato possiamo anche tra l'altro diciamo discutere questa interpretazione perché Kant può essere anche letto in una maniera diversa ma secondo Habermas Kant è fermo ad una interpretazione di questo principio di universale accettabilità sotto forma dell'autoriflessione cioè il soggetto in foro interno a ipotizzare una situazione diciamo di universale accettabilità quando poi sappiamo che non è così che il soggetto in Kant non è il soggetto empirico individuale ma un soggetto diciamo che anticipa diciamo le forme di intersoggettività se vogliamo dirla così però lui ha buon gioco a dire il mio principio il principio del discorso è un principio che è intersoggettivo che è dialogico che ha a che fare proprio con un discorso effettivamente da realizzare nella prassi comunicativa e tra l'altro lo accenno soltanto questo farà da base da fondamento di una teoria della democrazia perché che cos'è la democrazia per questi autori la democrazia è quella forma di vita nella quale tutti coloro cantianamente d'altro canto se prendete il re nei fini a questa roba qua tutti coloro che sono all'interno di una forma di vita di un contesto sociale sono al tempo stesso autori e sudditi delle leggi delle norme che questa stessa o questo stesso ordine sociale si impone no la democrazia è questa modalità con cui noi interagiamo all'interno appunto di una sfera che lui direbbe comunicativa e per cui ecco dal punto di vista negativo che cos'è dominio il dominio è quella forma di misconoscimento di norma sociale che non potrebbe essere accettata da tutti coloro che ne sono affetti ne sono coinvolti quindi questo livello molto concreto che cosa vuol dire poi lo dirà Abermas infatti è norme opera del 92 si tratta di dire quindi che la democrazia è questa cosa qui e tanto nell'etica quanto nella politica vuol dire essenzialmente non partire da un concetto positivo di vita buona o di diciamo così concetto ecco neoristotelico di perfezione morale oppure di vita buona di essenzialismo ma in maniera procedurale è stato molto attaccato per questo ma capite il senso di questa idea proceduralmente noi dobbiamo intenderci di volta in volta in maniera discorsiva e inclusiva sulle norme sociali questo però è un concetto esigente perché vuol dire che c'è una teoria dei diritti se io devo entrare in una logica secondo cui tutti sono soggetti e sudditi di queste norme sociali allora devo presupporre tutta una serie di diritti negativi e positivi inclusi quelli sociali che ostacolano diciamo così il libero esercizio di questa possibilità quindi è anche un autore che poi chiaramente è entrato nel tutto nel dibattito su il contratto sociale sulla forma deliberativa di democrazia e sulle modalità con cui diciamo uno stato liberal democratico su questo si può dire qualcosa cioè Habermas man mano anche perde i suoi connotati più diciamo evidentemente marxisti per approdare ad una visione che potremmo dire socialdemocratica ecco di convivenza e di forma istituzionale anche se poi anche su questo si può discutere ecco chiudo dicendo qual è se c'è una filosofia della storia di Habermas c'è e la direi in questa diciamo in questa maniera il cantismo di Habermas che rende giustizia al prefisso quasi trascendentale è un cantismo sui generis cioè intanto l'abbiamo visto l'etica del discorso e leggere comunicativo sono una teoria ripeto intersoggettiva di contro ad una teoria puramente trascendentale diciamo di un'idea di a priori inteso con un a priori al di là dell'esperienza no il trascendentale è interno alle pratiche ok in secondo luogo in secondo luogo ad esempio se prendete la questione del fatto della ragione in Kant no il fatto della ragione in Kant è l'auto evidenza della legge morale la non contraddittorietà della legge morale per Habermas tanto quanto per Apple si tratta di pensare il fatto della ragione non più come una diciamo auto evidenza che magari non so ci sono mille interpretazioni su questo ma insomma secondo una forma quasi di intuizionismo no colto da un soggetto no in maniera isolata non sto dicendo che sono d'accordo questa è l'interpretazione il fatto della ragione non sta appunto nell'auto evidenza della legge morale ma nel fatto che coloro che intendono smentire le pretese di validità finiscono per cadere una contraddizione performativa cioè coloro che vogliono assumere che ad esempio la pretesa di verità no secondo il famosissimo schema aristotelico dell'elencos ad esempio ma non solo è falsa stanno ammettendo che in realtà la pretesa è vera questo chiaramente si scandisce in tutte le diverse classi delle pretese di validità ma anche nella pretesa diciamo più generale di universale accettabilità e qui Forst riprende questo cote diciamo più autoriflessivo e riflessivo dell'etica del discorso in terzo luogo e qui vengo alla questione storica perché Abermas è un cantiano sui generis è quasi anche un po' un egheliano un tedesco diciamo così perché perché Abermas ha una filosofia della storia a misura in cui l'etica del discorso all'agire comunicativo cioè tutto questo discorso che abbiamo fatto è dipendente da quella che lui definisce processi di apprendimento vi suggerisco di andare a a leggere questo ultimo libro di Abermas pensate un po' l'età l'età di 90 e passani ha scritto un libro di poco più di mille pagine che ha come sempre questo titolo che secondo me non coglie tutta l'essenza del progetto perché una storia della filosofia sembrerebbe un manuale di storia della filosofia ma in realtà è una vera e propria filosofia della storia nel tedesco è intitolato Aukainege Schicht della filosofia cioè ancora una storia della filosofia e qui c'è un rimando alla famosa opera di Herder Aukainege Philosophie des Schicht e quindi Abermas un po' alla fine della sua carriera filosofica intende completare una sorta di ragionamento complessivo su la modalità con cui la storia umana dal neolitico a oggi ha fatto sì che ci sia man mano in maniera più o meno diciamo così progressiva una detrascendentalizzazione della ragione e questo lo mostra attraverso diverse fasi che non sto qui chiaramente a approfondire su cui non entro nel dettaglio diverse fasi di proprio integrazione tra ad esempio il rapporto tra fede e sapere tra il passaggio dalle forme mitiche alle forme di pensiero razionale della grecità fino alla grande cesura della modernità nella quale dalle forme appunto oggettive dell'essere si passi si passa le forme soggettive dell'io fino ad arrivare alle forme intersoggettive della comunicazione vedete come la scansione è ben delineata no? lui lo lo mostra attraverso una profondità storica impressionante e attraverso la storia del pensiero in particolare concentrandosi almeno in questo volume in uscita il secondo e in traduzione sull'esempio sull'epoca assiale sulla modalità con cui in buona sostanza nel quinto secolo avanti cristo si sono create le principali immagini del mondo di ogni civiltà e lì c'è stato il primo indizio di detrascendentalizzazione secondo lui cioè appunto dalle immagini mitiche si è passate a immagini se vogliamo più legate alla ragione anche in in dialogo con la fede ma sempre diciamo una ragione che sempre più si incarna nelle prassi vitali del mondo della vita i processi di apprendimento sono importanti in questo perché perché lui dice proprio in questo ultimo libro parlo di apprendimento socio-cognitivo quando nello spazio sociale i confini si estendono al di là del collettivo di appartenenza cosicché in caso di conflitto la reciproca assunzione della prospettiva altrui sia tollerabile cioè ci sono degli elementi di di estensione della nostra capacità socio-cognitiva di includere l'altro all'interno di uno schema diciamo di accettabilità universale però parlo lui dice di apprendimento morale quando sulla base di capacità disposizioni socio-cognitive allargate c'è una sorta di mente allargata cresce la disponibilità a risolvere pacificamente i conflitti al di là del collettivo di appartenenza cioè la famosa scansione secondo cui in una sorta di progresso morale si passa da una mente morale diciamo così convenzionale tribale ad una mente ad una coscienza morale di tipo universalistico questo ha quasi una cioè riecheggia in questo una modalità anche hegeliana di scansione logico storica secondo cui appunto si passa dalle forme più semplici alle forme più complesse di coscienza il trascendentale se c'è è la modalità con cui esistono delle forme interne a questi grandi processi storici che però noi possiamo in qualche modo astrarre nella loro universalità e questa è l'etica del discorso ad esempio cioè che è un po' un'ultima fase nella quale l'uomo cioè il progresso umano ha cercato di attraverso appunto questi processi di apprendimento come se fossero processi proprio di sviluppo cercato intanto certo di risolvere problemi di natura morale cioè i contenziosi morali ma proprio anche quelli di risolvere i problemi sociali quindi cioè questo è un ritorno del materialismo in questo in quest'ultimo Habermas un naturalismo in cui ripeto vedete come gli elementi diciamo kantiani ermeneutico dialettici si si accavallano come però provocazione finale rimando a un testo di Emiale insomma lo metto così credo che poi ne parlerete in cui questa logica del progresso è stata accusata proprio sulla base diciamo così di un interesse di emancipazione in particolare che proviene da i studi postcoloniali questa è una io ho già terminato la mia presentazione quindi questo è soltanto un ultimo diciamo un modo per a mio parere avere ancora più contezza della posta in palio di questo discorso che Habermas fa cercando però di prendere seriamente questo genere di critiche Emiale in questo testo in cui accusa sia Habermas che Onnet e anche Forst di lo dico imperialismo informale secondo cui questa insistenza sugli elementi di apprendimento socio-cognitivo e morale cioè c'è un progresso morale e si passa da una stadio A a uno stadio B laddove lo stadio B è più complesso più articolato più ricco guarda caso riguardante in buona sostanza la storia europea occidentale questo rischia di costituire un elemento di discriminazione e di costruzione non voluta unintended di regime diciamo discorsivo oppressivo e qui chiaramente c'è Foucault dietro cioè Habermas come tutti questi fautori ed epigoni della coppia Hegel-Kant rischierebbe attraverso questa impresa ricostruttiva generale della coscienza morale di creare fondamentalmente una gerarchia morale se io sono al di fuori di questi processi di apprendimento quindi sono unlearned dice Amy Allen laddove invece soltanto alcune modalità socioculturali sono più apprese hanno più appreso allora vuol dire che la teoria critica finisce per essere una teoria giustificazionista della storia in buona sostanza anche se Habermas più da Cantiano che da Hegeliano insiste molto a più riprese come questa teoria della storia in realtà non è una teoria necessarista o diciamo così Hegeliana in un senso forte ma è fallibilista cioè non c'era iscritto nella storia del pensiero che dovesse andare così ecco il cammino della storia ma sicuramente anzi cioè Habermas è un fallibilista da questo punto di vista poteva succedere altrimenti ma ciò non toglie che questa sua versione diciamo così di critica sociale che è dipendente così tanto dei processi di apprendimento pone un problema dal punto di vista più complessivo della nostra comprensione ad esempio di un'etica potremmo dire globale postcoloniale e così via questo ma qui siamo a livello dei giudizi soggettivi non non può essere una critica che va fino in fondo mi pare quella di Allen però è utile per cercare di avere chiare alcune clausole importanti quando si fa una critica una critica sociale soprattutto si cerca come Habermas ha cercato di fare tutta la vita di chiarirne i fondamenti fermo qua